Musica Bloccato traffico di falso olio made in Italy per 2000 tonnellate. Una vasta operazione condotta dall'Ispettorato Repressioni, Frodi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani ha portato al blocco di un vasto e collaudato sistema di frode radicato in Puglia e Calabria nel settore oleario. L'operazione in codice denominata Mamma Mia ha consentito di bloccare la commercializzazione di oltre 2000 tonnellate di olio extravergine di oliva falsamente fatturato italiano per un valore di oltre 13 milioni di euro. Sono otto gli indagati accusati di frode agroalimentare e di reati fiscali connessi a un giro di fatture false per oltre 13 milioni di euro attestanti il commercio di 2000 tonnellate di olio italiano fittizio. Gli investigatori hanno accertato che negli anni 2014 e 2015 oltre 2000 tonnellate di olio extravergine di oliva proveniente da Spagna e Grecia sono state commercializzate come olio 100% italiano. Le partite di falso olio 100% italiano sono state rintracciate mediante la documentazione di vendita di quote ancora residue e saranno poi ritirate dal mercato mediante un articolato sistema di richiamo dei prodotti irregolari. Operazione della Polizia di Stato Ad Andrea la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone tutte andriesi con un'età compresa tra i 30 e i 50 anni con numerosi precedenti di polizia ritenute responsabili in concorso dei reati di rapina a mano armata, riciclaggio, ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina e per alcuni anche di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani su richiesta del sostituto procuratore trae origini dall'attività investigativa e tecnica eseguita dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Andrea a partire dal gennaio del 2015. Le attività di indagine condotte hanno consentito di raccogliere concreti elementi di reità nei confronti dei 7 arrestati e di attribuire agli stessi la responsabilità della rapina a mano armata perpetrata ad Andrea il 16 gennaio 2015 e danni di un'auto trasportatore di olio per un valore di oltre 200 mila euro. Rinvenute autovetture con targhe contraffatte ed equipaggiate con protezione balistica costituita da una lamiera in metallo posta all'interno del bagagliaio tesa a garantire protezione durante gli eventuali conflitti a fuoco con le forze dell'ordine. All'interno dell'auto era nascosto anche un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola a brasa con tre cartucce calibro 12 a palla singola una pistola semi-automatica calibro 40 con marca e matricola a brasa completa di caricatore rifornito di 5 cartucce calibro 40 un lampeggiante magnetico di colore blu ed un paio di guanti. Bitonto, cavallo di ritorno per un furgone rubato, chiesti 1200 euro, preso un 19enne. 1200 euro per la restituzione di un furgone rubato alcune ore prima e questa è la pretesa di un malfattore di Bitonto di 19 anni e già noto alle forze dell'ordine arrestato l'altra sera a Bitonto dai carabinieri di Biceglie con l'accusa di estorsione, violenza e resistenza pubblico ufficiale. L'autista di un furgone di una ditta di trasporti ha denunciato il furto del veicolo alla caserma dei carabinieri di Biceglie. Poco dopo è stato contattato telefonicamente da un individuo il quale aveva preteso la somma di 1200 euro per la restituzione del furgone da consegnare a Bitonto. A questo punto è scattata la trappola. All'appuntamento la vittima si è recata in compagnia dei carabinieri. Intascato il danaro, il giovane è stato accerchiato dai militari che lo hanno bloccato. Scattate così le manette ai polsi del pregiudicato, il furgone è stato ritrovato più tardi nella zona industriale di Bitonto dai carabinieri. Cassano delle Murge, dopo gli atti di vandalismo, ripristinati e riaperti i bagni pubblici. A Cassano, dopo gli ultimi episodi di vandalismo, i bagni pubblici di Piazza Galietti e Piazza Merloni sono tornati a funzionare grazie all'intervento di ripristino e pulizia effettuato dal settore manutenzione del comune. Occorrerà più tempo invece per la riapertura di quello di Piazza Dante, che a causa dei maggiori danni subiti necessita di un intervento di recupero più complesso e dispendioso sul piano economico. Con il ripristino sono stati ridefiniti anche gli orari di apertura dei servizi igienici pubblici. Il bagno di Piazza Galietti sarà aperto tutti i giorni dalla mattina fino al pomeriggio. Quello di Piazza Merloni, invece, sarà aperto solo nel giorno del mercato settimanale, e cioè il venerdì mattina. La scelta di ridurre l'orario di apertura, chiarisce l'assessore al bilancio Davide Pignatale, è dovuta all'impossibilità da parte del comune di assicurare un presidio continuo, un servizio di costante vigilanza. Se da un lato ridurrebbe il rischio di nuovi atti vandalici, dall'altro comporterebbe un costo notevole a carico delle casse del comune e, in definitiva, delle tasche dei cittadini. E per questo, dichiara il sindaco della città di Cassano, Vittorio Leonetti, che facciamo appello ancora una volta al senso civico dei cittadini. I bagni pubblici, come le piazze, gli arredi urbani, le scuole, sono beni comuni, che appartengono a tutti noi. Abbiamo il dovere di assicurarne la cura, segnalando, inoltre, non ci stancheremo mai di dirlo, alle forze dell'ordine e o al comune, le persone che devastano o deturpano il patrimonio pubblico.